Martedì 8 gennaio, San Massimo, è l'ottavo giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 357 al termine. Il sole sorge alle 7.50, tramonta alle 16.45. La luna sorge alle 9.23, tramonta alle 19.02. I veneziani si annettono definitivamente all'isola di Corfu, si impegnano a riconoscere i privilegi allargiti dagli angioini di Napoli, precedenti proprietari, ai baroni locali nei riguardi dei contadini. Le previsioni per domani. Sulla pianura alternanza di nuvole e rasserenamenti. Al mattino nebbia diffuse fino all'alba ed in dissolvimento in seguito. Sui monti fino al mattino sereno poco nuvoloso, dal pomeriggio poco o parzialmente nuvoloso. Precipitazioni sulle dormite settentrionali probabilità bassa per modeste nevicate a tratti nel pomeriggio, altrove assenti. Temperature in pianura fino all'alba avranno andamento irregolare e dal mattino saranno in aumento anche sensibile. Sui monti generalmente in calo anche sensibile, eccetto andamenti irregolari in alcune valli.